A parole sono tutti favorevoli all'autonomia del Veneto e noi chiediamo che le parole si traduccano in atti concreti. Per questo abbiamo presentato una risoluzione in cui si dice che il referendum sull'autonomia del Veneto si tenga insieme al referendum sulla riforma costituzionale che si tratta a ottobre, questo primo per un risparmio di spesa e quindi risparmiare 7 milioni per il Veneto significa avere più risorse a disposizione nei servizi, secondo per fare in modo che la riforma costituzionale si confronti anche con l'autonomia sul Veneto. Riforma costituzionale che a nostro modo di vedere significa centralismo e si oppone rispetto invece all'autonomia della nostra regione che è richiesta da tutta la regione e noi siamo convinti dalla stragrande maggioranza dei Veneti. Il confronto oggi è tra due modelli che sono completamente diversi, la modifica costituzionale di Renzi che riaccorpa tutta una serie di competenze e di poteri a Roma, al centro e allo Stato, dall'altra parte la nostra proposta di referendum su una maggior forma di autonomia tipo le regioni che ci contornano e quindi né più né meno quello che è successo dopo la guerra quando è stato chiesto agli italiani, in questo caso chiederemo ai Veneti, se siete per la monarchia centrale o per la repubblica che riguarda il nostro territorio.